Preghiera della Sera Signore Dio, aiutaci a vivere in modo santo. Fa che riconosciamo in Te il vero Autore di ciò che intraprendiamo e possiamo così, con l'aiuto dei Tuoi Santi Apostoli, che Tu hai chiamato perché fossero con Te, essere un chiaro segno del Tuo Regno, per la Chiesa e per il mondo intero. Amen. Grazie.